Manca pochissimo alla finale dell'Isola dei Famosi e mentre aspettiamo di scoprire chi sarà il vincitore della prima edizione del reality Targato Mediaset, uno degli ex concorrenti ha stupito tutti con una clamorosa dichiarazione. Si tratta di Albano, che partecipò alla terza edizione dell'Isola quando ancora andava in onda su Rai 2. A Samana, durante l'Isola, ho rischiato la vita anch'io, racconta il cantante in un'intervista rilasciata ad oggi. Sono scivolato all'indietro e ho sbattuto schiena e testa. Fortuna che sono caduto su un mucchio di legna che ha attutito il colpo, ma ho battuto la testa a 3 cm dalla roccia. Un miracolo! Sono fatalista, continua, però l'incidente mi fece riflettere sul pericolo cui eravamo esposti. Se le cose fossero andate diversamente e io mi fossi fatto male sul serio, l'ospedale più vicino era a ben 40 minuti di barca. Non credo ci sarei arrivato vivo. Non credo ci sarei arrivato vivo.